Talento e creatività sono tra gli aspetti più rilevanti della Rassegna Cinema e Libri tra sabbia e stelle. A cura di Cinema 80 Multisala Paolillo è organizzata in collaborazione con l'Associazione Il Presidio del Libro e con il patrocinio del Comune di Barletta, nell'ambito del programma estivo di eventi, si va in scena. Ospite speciale della Rassegna è stato il giovane regista barlettano Giuseppe Arceri, autore del libro C'era una volta Sergio Leone e del cortometraggio C'era una volta il Covid. L'opera letteraria è un omaggio al cinema italiano e in particolare a uno dei registi più studiate in America, un testo che ripercorre tutta la carriera artistica e professionale di Sergio Leone, sceneggiatore e produttore cinematografico, senza trascurare il legame con Ennio Morricone, autore delle colonne sonore dei suoi film. Sergio Leone è per me il mio mentor, il mio guru, il maestro che ritengo fonte di ispirazione più grande tra tutti i registi ed è stato oggetto per media analisi il studio dei suoi film, delle inquadrature. Anche se pensiamo al richiamo del titolo, c'era una volta il Covid, è proprio un richiamo ai suoi titoli, alla sua poesia, alla sua etica, alle inquadrature, ci sono tanti primi piani, il suono, campi lunghi, quindi ho voluto proprio omaggiare questo maestro che secondo me va studiato. Significativo anche il cortometraggio c'era una volta il Covid, candidato all'edizione 2021 del prestigioso David Di Donatello e vincitore di dieci premi nei festival internazionali. Protagonista del video è Antonio Sarcinelli, un settantenne che si trova a dover affrontare una pandemia inaspettata con risvolti che lo portano a vivere in solitudine. L'anziano non si abbatte e riscopre invece la bellezza delle piccole cose che la quotidianità sa offrire, anche i semplici suoni della natura. Un messaggio di speranza e fiducia in un clima difficile e denso di incognite. Nel video sono messi volutamente i dialoghi per dare spazio alle immagini e alle espressioni. ho preso mio padre come cavia. Questa figura di un anziano, perché se pensiamo agli anziani è la fascia sociale più colpita all'inizio da questo benedetto virus ed è una persona da preservare, quindi la figura del saggio che può insegnare tanto a noi giovani. Ho voluto analizzare proprio la sua solitudine, i suoi momenti di pace, correlandolo anche ai suoni della natura e perché la pandemia ci ha fatto prendere tanto tempo per noi stessi, quindi abbiamo dedicato tempo per noi stessi. Un cortometraggio nato durante il lockdown in perfetta armonia con Vittoria Diletta Filo Grasso, esperta del suono e con lo sceneggiatore Michele Piazzolla. Episodio particolare, tipo quando abbiamo visto e poi scritto le scene in macchina, è stata abbastanza emozionante perché comunque l'impatto da essere lontani, essere vicini, unire direttamente Lady è qualcosa di molto particolare e poi è nato il tutto, ovviamente passo dopo passo perché non è stato solitamente semplice.